Quella sera, al termine di un'azione di volantinaggio, Dante Cesana, Marco, si trovava nella piazzetta prospicente la casa di salute di Carate, per consegnare a Claudio una pistola rimessa a nuovo. Fatto lo scambio, Dante Cesana si disponeva a ritornare alla propria casa, mentre Claudio Cesana, distante un centinaio di metri dalla propria dimora, ritornava sui propri passi con l'arma in tasca, precedendo l'amico Angelo Viganò. All'angolo, tra via Caprotti e via Damiano Chiesa, furono affrontati dai brigatisti neri. Claudio sentì il rumore dello scatto della sicura e non ebbe esitazione. Prima ancora di ricevere l'intimazione di Alt si girò di scatto e impugnata la pistola fece fuoco. Malauguratamente il colpo non partì, per cui fu facile, per gli uomini in nero, armati fino ai denti, arrestarli. Vennero portati alla casa del fascio, sede della brigata nera, e picchiati a sangue con tale ferocia che la madre stessa di Claudio la mattina seguente stentò a riconoscere il figlio. Risalendo alle amicizie dei due arrestati e a qualche zelante informatore, i fascisti riuscirono a stabilire la corresponsabilità di Dante Cesana, circondarono la casa e lo obbligarono ad aprire e ad arrendersi. Alle ore 14 del 27 febbraio, in un pomeriggio quasi primaverile, i partigiani ammanettati vennero portati a Monza, al comando tedesco delle SS, in via Tommaso Grossi. Il 5 marzo, incatenati come malfattori, furono costretti a sfilare per le vie della città, dal carcere al comando delle SS e il ritorno, passando per Largomazzini. L'8 marzo successivo veniva compiuto un attentato contro il comandante tedesco di Pessano, da parte di una formazione partigiana che operava in quella zona. Subito scattò la rappresaglia, con la decisione di fucilare alcuni ostaggi, prelevandoli dal carcere di Monza. Il 9 marzo, attorno alle 18, nello stesso luogo dove era stato aggredito il tenente tedesco, Alberto Gabellini, Mario Vago, Romeo Cerizza, Angelo Barzago, Dante Cesana, Claudio Cesana, Angelo Viganò, venivano barbaramente trucidati. Grazie.